E dopo un po' di sofferenza, vieni qua, con un po' di sofferenza l'abbiamo portato, forse, forse, 3 a 1, 3 a 1, saldate la capolista, saldate la capolista, si vince anche soffrendo, si vince anche soffrendo. Angolo, ormai finita, teniamola lì, teniamola lì. E' solo 4! 4! Le partite si vincono anche così, anche passando attraverso 90 minuti di sofferenza. Che sofferenza, guarda! Non una grande partita, però bisognava vincere per andare in testa alla classifica, approfittando del pareggio tra Udinese e Atalanta. L'abbiamo fatto, ci godiamo il momento, ci godiamo la vetta solitaria della classifica di Serie A. In attesa di andarsi a giocare con l'Ajax, la qualificazione, basta un punto con l'Ajax per qualificarti, ma se ne porti via tre, cominci anche a credere di poter arrivare prima. E' finita Lozzini, ci portiamo via tre punti, ce ne andiamo in testa alla classifica, per le analisi, i commenti. Ci vediamo nei prossimi giorni, però diciamo anche che a volte bisogna andare al di là dell'aspetto tecnico, venire a giocare su un campo con una squadra che fa il suo onesto gioco e che probabilmente meriterebbe una classifica migliore rispetto a quella che ha, ma contava a vincere. Abbiamo vinto? Va bene così. Partite del genere bisogna vincerle anche così, anche così. Speriamo non sia successo niente a Ramani che è uscito nei minuti finali, l'unica cosa è questa. Io vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo nei prossimi giorni per analizzare meglio il tutto e tuffarci in quella che è la sfida all'Ajax per portarci via la qualificazione agli ottavi. Saluta la qualificazione agli ottavi. Speriamo che dobbiamo andare a prenderci.